Finalmente le forze dell'ordine hanno fermato dei ladri colti in flagranza mentre stavano cercando di rubare in un appartamento di sottomarina. Nel pomeriggio di domenica, poco prima delle 18, i carabinieri hanno fermato un uomo che era entrato in un appartamento di un condominio di via Usonia. Sembra che un complice sia riuscito a scappare. Al momento non è nota nessuna altra informazione, non si sa chi sia questa persona, né se sia collegato con altre attività stagionali purtroppo famose anche per le attività illecite. Sembra che i ladri siano stati scoperti grazie a un sistema interno di video sorveglianza che ha avvisato i proprietari dell'intrusione. Continuiamo ad invitare la cittadinanza a fotografare le auto, in particolare la targa e le persone sospette e di comunicarle alle forze dell'ordine. Nel caso ci sia la presenza di certe persone, se abbia qualche timore, cercare di memorizzare la targa e poi trascriverla cercando di dare indicazione il più preciso possibile. Allarmare le forze dell'ordine con indicazioni illimitate tipo era un'auto scura aiuta ben poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.